LUCAS ZAMPARO Hai giocato in un ruolo non proprio tu, ti sei adattato a fare l'esterno, com'è andata? Vabbè, basta giocare, quindi ho sempre fatto la punta, però quest'anno essendo in tre sto facendo l'esterno spesso, però mi trovo bene, comunque il mister mi aiuta, i compagni sono tutti bravi, mi aiutano, quindi sono contento e va bene anche giocare lì. Sei l'esempio di come il lavoro durante la settimana possa davvero ripagare, hai sempre dato tutto durante gli allenamenti e sei stato ripagato appunto con una presenza da titolare. Sì, il mio carattere non mollo mai, è un invito a tutti, non mollare che comunque l'occasione arriva, poi bisogna saperla anche sfruttare, spero di avere accontentato il mister, comunque era tanto che non giocavo, spero che siano tutti contenti di me. Ad Alessandro è una trasferta veramente tosta, forse la partita della maturità. Sì, abbiamo assenze importanti, oggi l'arbitro ha beccato 4 su 6 ammoniti, tra l'altro uno era in tribuna, quindi abbiamo assenze importanti, però siamo tutti pronti, tutti lavoriamo, quindi credo che tutti sperino di avere un'occasione per mettersi in mostra. Grazie. Grazie.